I bambini sono contenti quando hanno la possibilità, entro certi limiti, di compiere delle scelte personali. Oggi Tamerlan, che ha 4 anni, ha ricevuto il compito di scegliere quali prodotti acquistare per un lavoretto creativo per la casa. Poter scegliere tra tanti prodotti diversi permette a Tamerlan di allenare la sua capacità di discriminazione visiva e l'autocontrollo. Fare acquisti è un'avventura basata sull'esplorazione e ha bisogno di tempo e di calma. Per poter compiere delle buone scelte non si può essere di fretta. La mamma è al suo fianco, sempre pronta a guidarlo, ma allo stesso tempo permette a Tamerlan di prendere le decisioni finali, anche quando queste non sono di suo gusto. In questo caso, i prodotti da acquistare servono per uno scopo creativo, non dettato dalla necessità. Quindi, Tamerlan è libero di compiere le proprie scelte in libertà. Questa è anche l'occasione per Tamerlan di imparare a maneggiare con cura gli oggetti e rimetterli sugli scaffali, se necessario. Lo spirito di collaborazione che si instaura tra il bambino e la madre fa sentire Tamerlan importante e apprezzato. L'autonomia è fondamentale per diventare responsabili e padroni delle proprie scelte. L'autonomia è fondamentale per diventare